Allora, anche se sono un feciolio, devo avere per forza gli spuntini, quindi come vi ho fatto vedere la schisciata del pranzo, ora vi faccio vedere la schisciata dello spuntino. Questi sono dei cereali semplicissimi ragazzi, solo tre ingredienti per favore fateli. Super croccanti, nello yogurt. In una ciotola ci basterà mescolare circa 100 g di fiocchi di avena, due misurini di proteine con 53 g di acqua. Ogni misurino a me misura 30 g e mi deve uscire questa cremina che addenserà tutto. 10-12 g di burro di arachidi ed è fatta. Mescolate tutto, quanta sceglievolezza, comunque mescolate tutto e poi mettete o in forno per 20 minuti a 180 gradi oppure in freggetrice 20 minuti a 185-190 gradi. O spappolate man mano oppure diventerà una tavolozza che spappolerete e romperete quando sarà già fredda. Guardate quanto sono graziosi! Sono buonissimi, adesso ascoltate la croccantezza. Segui per altre ricette fit.